Oggi parliamo di ecotassa. Parliamo di ecotassa perché una legge nazionale da 549 del 1995 con l'intento di ridurre la produzione di rifiuti, tassa il conferimento di rifiuti in discarica e delega alle regioni la possibilità di determinare l'importo del tributo, stabilito dallo Stato di soglie minime e massime, al quale fare pagare i gestori delle discariche che a loro volta li faranno pagare ai gestori della raccolta e svantimento dei rifiuti e quindi a cascata ai cittadini. Noi diciamo che per incentivare il ciclo, il riuso, la riduzione dei rifiuti bene tassare il conferimento in discarica e negli inceneritori, più si conferisce in discarica nell'incenerimento più si deve tassare, ma oggi abbiamo scoperto una cosa secondo noi molto grave. Innanzitutto l'articolo 3,29 della legge nazionale 549 del 1995 secondo noi non dà alle regioni la possibilità di identificare nuove categorie per l'attribuzione del tributo oltre a quanto previsto. Le categorie sono solo due, così dice la norma nazionale, sono una per i rifiuti inerti che vanno in discarica, quindi rifiuti del settore edilizia, cave e la seconda categoria quella per i rifiuti non pericolosi e pericolosi. Individua come soglia massima quella per i rifiuti inerti circa 10 euro a tonnellata o ancora meglio dice di definire il tributo per chilogrammi di rifiuti, quindi 0,01 per chilogrammi e dice di individuare per 0,02582 il tributo per chilogrammi per rifiuti non pericolosi e pericolosi. Allora noi diciamo di applicare la tariffa massima, verificare se la regione ha questo potere di identificare nuove fattispecie per l'attribuzione dei tributi, ma soprattutto attivare un'indagine chiedendo un parere anche alla Corte dei Conti se in tutti questi anni la regione ha fatto quanto prescritto dallo Stato e che la sua condotta non abbia provocato un danno e rarriva.